Ora, mi fate vedere i sondaggi per cortesia, perché sono molto interessanti. I sondaggi di index innanzitutto. La Lega è al 23,2%, ha perso mezzo punto da settimana scorsa. Il PD al 19,5% ha preso 0,3%. Fratelli d'Italia è al 17%, 0,1%. Movimento 5 Stelle al 15% ha preso 0,4%. Andiamo dopo, veloci. Forza Italia al 6,5%. Azione di Carlo Calenda, che sarà qui tra pochissimo, al 3,8%. La sinistra al 3,6%. Italia viva al 2,9%, ha perso 0,6% secondo index. Poi abbiamo più Europa, 2,5%. I Verdi 1,9%. Cambiamo i Totti 1,2%. Andiamo ancora avanti e vediamo che nella fiducia dei leader, Giorgia Meloni è sempre prima col 38%, precede Conte al 32%, Salvini 27%, Zingaretti 25%, Berlusconi 18%, Calenda è Di Maio 17%, Renzi 11%. Perde 4 punti in questa partita, che evidentemente non è stata compresa dagli elettori. Cartello successivo, il governo Conte quanto durerà? Fino all'elezione del Presidente della Repubblica nel 2022 per il 42,1%. Pochi mesi, si voterà prima dell'estate per il 37%. Vediamo il cartello successivo. Renzi, fuori dal governo, questi sono gli elettori 5 Stelle e Movimento 5 Stelle e centro-sinistra. Renzi, fuori dal governo, è comunque un male per il 53,8% ed è un bene per il 32,8%. Quindi questo, per esempio, è un dato che fa riflettere. Abbiamo un altro cartello sugli index. Sì, la soluzione della crisi, sempre per il lettore centro-sinistra, il ritorno di Renzi in maggioranza, con un nuovo Presidente del Consiglio per il 30,2%. Il governo di unità nazionale con le posizioni per il 26%, la soluzione attuale per il 25%. Ultimo cartello, in realtà è un sondaggio che ha fatto SVG per, ah no, pandemia e ricostruzione economica, Conte la saprà gestire. No, 57,7%. Quindi c'è un clima di sfiducia sul futuro che dovete sicuramente, come dire, una falla che dovete tappare in fretta, perché chiaramente negli italiani oggi si vede una certa approssimazione, un quadro politico molto instabile. Ma se si andasse le elezioni, quanto verrebbe il Partito di Conte? Questo è un sondaggio di SVG che ha mostrato il Tg della 7. stima del consenso da un partito guidato a Conte tra il 15% e il 17%. Da dove verrebbero questi voti? Dagli indecisi per il 5,3%, il 5% verrebbero da 5 Stelle, il 4% dal Partito Democratico, pochissimi dal centro-destra. Va bene. Io...